La competenza è il possesso di determinate abilità e preparazioni tecniche necessarie al caso di specie, arte tipica delle professioni. L'eupetenza invece è un neologismo di provenienza greca dall'aggettivo eupetes, che significa facile, agevole. Eupetenza sta a significare il possesso di atteggiamento mentale e d'animo alla facilitazione di ciò che appare difficile. L'eupetenza quindi è l'arte di rendere facile, ovvero l'arte di facilitare, facilitare i rapporti, le composizioni degli stessi su binari comuni. È la predisposizione d'animo alla ricerca dell'armonia della composizione e del miglioramento del fare. Eupetenza è l'assetto di partenza per affrontare in superiore armonica e condivisa sintesi le contrapposte tesi e antitesi. Eupetenza riecheggia un po' l'arte di togliere i bastoni dalle ruote per consentire al carro di continuare il suo percorso nella profonda convinzione che il carro porta a tutti noi. Ed è, l'eupetenza, l'esatto contrario della strisciante abitudine di mettere i bastoni tra le ruote, ovvero il contrario di avviluppare di lacce e laccioli il libero svolgimento delle umane attività detto costruzionismo.